ciao a tutti draghi sono eterion e vi do il benvenuto in questo video su warframe basato sulla live sul dev stream numero 9 se non ricordo male fatto da da casa della digital extreme su warframe ovviamente anche oggi come due settimane fa e le due settimane prima vi porto il riassunto di quello che si sono detti quelli della die su warframe è un dev stream lo sapete l'avete già visto qualche settimana fa come funziona e niente niente di che dev stream un po fiacco per chi voleva vedere degli aggiornamenti belli corposi su warframe io non gioco da tantissimo sono ormai due anni ma c'è chi gioca da molto più tempo di me però dovreste sapere un po tutti che verso la fine di ogni anno c'è solitamente un grosso aggiornamento nel gioco tutti quanti anche me chiaramente speravamo in un aggiornamento sulla railjack appunto le railjack corpus con i leech corpus chiaramente hanno spiegato che non sarà possibile per via della pandemia globale e quindi tutti questi bellissimi aggiornamenti enormi li vedremo nel 2021 hanno detto inoltre che tra due settimane il 16 dicembre data storica anche per il mio canale di youtube adesso andremo a vedere perché si celebrerà il centocinquantesimo dev stream della die durante questo mini mini evento che poi sarà sempre una una live da da parte loro sempre una dev stream da da casa visto appunto che non si può uscire nemmeno nemmeno lì in casa faranno finalmente vedere le abilità di di lavos che sarà ufficialmente l'ultimo frame che uscirà in questo 2020 sarebbe dovuto uscire anche octavia prime se non ricordo male ma anche lei sarà lanciata nel 2021 sono estremamente contenti che è approdato warframe anche su playstation 5 per chi se lo stesse chiedendo visto che me lo avete chiesto in diversi su youtube no non verrà tolto chiaramente warframe dalla ps4 adesso che c'è sulla playstation 5 semplicemente l'hanno annunciato su playstation 5 e dovrebbe se non ricordo male essere già uscito appunto per la nuova console sarebbe bello vedere se è possibile il cross platform da ps4 a ps5 presumo di sì non non mi azzardo dire nulla perché non ne ho idea c'è anche un piccolo aggiornamento sui kuvalic i nostri amatissimi kuvalic quelli la green ear no quelli che siamo totalmente ormai tranquilli di vedere in giro per la mappa non sarà un grossissimo aggiornamento verranno aggiunte un po di voci e un po di personalità a questi kuvalic sembra una sciocchezza probabilmente lo è però è una cosa carina che aggiungeranno hanno anche presentato nuovamente wright come warframe un nuovo warframe che uscirà doveva uscire nel 2020 anche lui pandemia 2021 molto molto easy anche questo non si scappa mi ricordo tantissimo un miscuglio tra virgolette tra gara non gara scusatemi garuda per gli artigli un po che c'ha nelle nelle mani e necros sempre per quelle quelle dita strane non ricordo un pochettino necros garuda un po un po di meno però non lo so mi dava anche questa impressione di wright non si sa presso che nulla ancora e quindi niente aspetteremo hanno fatto vedere quello che poi arriverà con l'aggiornamento del railjack corpus hanno trovato un po di astronavi corpus in giro non mi è piaciuta particolarmente questa questa scelta perché sì bello fa vedere l'interno ma è roba corpus siamo abituati a vederla dall'aggiornamento delle navi corpus che avevano già fatto qualche qualche aggiornamento fa ormai siamo già abituati a vederle ben rifinite e molto molto meglio sistemate rispetto a come erano in passato quindi vedere questo un po sì bello ma meh cioè volevo più carne più carne al fuoco come si suol dire per chi si intende di audio vi consiglio inoltre di recuperarvi questo questo dev stream nella sua totalità perché hanno parlato tantissimo di di audio di come fanno alcuni alcune tipologie di suoni noto vedere ad esempio i suoni che fa il necramec il nuovo necramec come hanno analizzato questi suoni come li hanno creati poi digitalmente tutti quanti sono ripresi tra l'altro da attrezzi tra piccolette di tutti i giorni è stato molto molto interessante molto carino da vedere è una piccola chicca magari non vi frega poi tanto perché alla fine è soltanto audio tra virgolette però è bello e interessante sapere come un singolo suono di un necramec è fatto campionando una cosa come 5 6 audio diversi hanno fatto poi vedere un tizio che si è messo a russare davanti a un microfono sempre per campionare altri tipi di audio della bocca infested gigantesca che si è vista nei trailer io ancora non l'ho potuto vedere perché il pc mi deve un po' di problemi adesso spero di aver risolto ma si è visto anche questo è una cosa c'è c'è perché no carino altri campionamenti audio altri suoni aggiornati e sistemati delle armi ed essenzialmente il devstream termina qui non c'era tantissimo da vedere in questo devstream c'era veramente poca carne al fuoco nel prossimo vedremo qualcosina in più perché ci sarà chiaramente l'avos il 16 di dicembre è una data importante vi dicevo prima perché il mio canale youtube compirà 4 anni esattamente il 16 dicembre quindi è una data importante anche per me draghi questo video termina qui grazie mille per avermi seguito se non l'avessi già fatto vi invito ad iscrivervi al canale lasciare anche un mi piace al video le raccommenti come sempre sotto al video se avessi bisogno di non lo so chiedere consiglio semplicemente per attaccarmi perché no ormai si fa un po di tutto io sono eterion e spero di rivedervi alla prossima ciao draghi ciao